a Angela Settivara, di parlare qualcosa di tutto il tema del potere che ho visto nei libri centrali. Certamente come ha detto Mauro, la paura è la base del potere, il potere ha potere su di noi perché noi abbiamo paura di emergere, di essere noi stessi, anche se per me è sempre molto difficile parlare, è così forte per me, essere me stessa che faccio una certa fatica a capire la propensione del gruppo, di diventare qualcosa della base, di diventare gregaria, faccio fatica perché è così forte il fatto identificativo che faccio fatica, comunque vedo la realtà, la realtà è questa, che la gente ha bisogno di essere guidata, poi non ci sta bene, quindi cerca di essere se stessa, ma poi non ha il coraggio di essere fin da se stessa, fin in fondo, e quindi torna a farsi dominare dal potere. Dunque, quindi io vorrei dire una cosa importante per me, ma credo che lo sia per tutti voi. il punto di riferimento per essere noi stessi qual è? Cioè noi abbiamo una idea stratta dell'essere umano, ci viene comunicato dalla tradizione, dalla cultura, che cos'è l'essere umano, a volte in una maniera un po' più bella, a volte un po' meno bella, sublime, eccetera, però ci viene comunicato e ognuno si identifica nei modelli che gli vengono proposti. Questo è un vizio che possiamo interrompere, ognuno di voi può interrompere, cioè anziché accettare il modello di essere umano che ci viene proposto dall'esterno e che può essere più affine a noi o più lontano, dobbiamo cercare di farci delle domande, di capire effettivamente che cosa desideriamo dentro di noi, qual è la nostra esigenza più profonda e in base all'esigenza più profonda, al desiderio più profondo che abbiamo dentro, noi dobbiamo, cioè dobbiamo, viene da dire, immaginarci che quello che vogliamo in realtà è quello che siamo e che possiamo essere, che siamo già in partenza, in nuce e che possiamo svilupparci, cioè fare più attenzione a quello che desideriamo, a quello che è l'esigenza più profonda, fare più attenzione. Non siamo abituati, cioè quasi pensiamo che quello che desideriamo profondamente o che viviamo nella nostra fantasia sia appunto un sogno, un'alienazione o qualcosa di disturbato e non proprio la domanda di essere. Ecco, secondo me questa possibilità ce l'abbiamo tutti, di ascoltarci, di sentire semplicemente quello che ci piacerebbe essere. Ecco, quello che ci piacerebbe essere. Questo non è così, non è una cosa banale, perché quello che ci piacerebbe essere possiamo farci. Questo è il passaggio. Allora questo, cioè se noi ci togliamo l'impotenza che abbiamo nella mente, l'impotenza, noi abbiamo anche il coraggio di resistere non solo alle disegno del potere, ma anche a questo bisogno di mucchio perché abbiamo paura, di essere con qualcuno perché abbiamo paura. Possiamo rompere, rompere la paura proprio ascoltandoci e cambiare questo orientamento. Se mi piace essere in questo modo, ci provo, vedo se io provo ad essere come mi piacerebbe essere. Cioè è una sfida con noi. Io non ho fatto questo tragitto, però penso che anche questo sia utile, sia importante, perché noi abbiamo il potere sia male della paura. Comunque l'accumulo della cultura umana, l'accumulo della cultura umana, ha tante cose meravigliose, veramente meravigliose. Cioè il livello di umanità che abbiamo è il risultato di questa cumula e di tutta la storia. E prendendo il lato positivo, come prendo sempre io, raccolgo la storia nella sua valenza positiva. Però non dimentichiamo che c'è anche quella negativa. E quella negativa è crederci impotenti, crederci peccatori, crederci malvagi perché non riusciamo a soddisfare un'altra delle esigenze di fondo, che è quello all'infinito, di non morire. La paura della morte ci fa accettare tutte le altre paure. Bene, io contro questo, contro la paura della morte, che ci fa accettare tutte le altre paure, che ci fa dominare dal potere, io posso dirvi un'esperienza che non è ancora molto elaborata, neanche nel linguaggio. Però questo sì. Quando uno comincia ad amare, quando uno comincia ad amare, capisce che entra nel sempre, che non c'è più la morte, perché quel momento di amore lo sente, lo sperimenta che è per sempre. Quindi noi possiamo veramente vincere questa paura, che è la paura della morte, che ci fa accettare tutte le altre paure, tutto il potere su di noi, anche incominciando ad amare. Perché quando uno ama veramente, capisce che quell'amore veramente è per sempre. Non ci sono, cioè è l'uscita veramente della morte, che poi vuol dire che ci uscieremo anche in un'altra maniera. Però intanto ci usciamo perché quell'amore, sappiamo che non può essere disperso. Quell'amore vero. Che cos'è quest'amore? Che sei capace di metterti in comunione, in connessione, tu, il tuo essere originale, con tutto quel che c'è. E come può morire tutto quel che c'è? Non può che espandersi. Cioè questo è il passaggio da fare. Io ho lottato tutta la vita, ho lottato tutta la vita e continuerò a lottare perché la nostra cultura umana sia più positiva, riconosca la bellezza dell'essere umano, riconosca che gli esseri umani sono meravigliosi. C'ho lottato e continuerò a lottare. Certamente non avrò molto successo, ma non fa niente, io continuerò a lottare. Ma allora mi sono domandata se non riusciamo a smuovere tutto il patrimonio umano che non ha fiducia nell'essere umano, pur avendo fatto delle cose straordinarie, meravigliose, se non riusciamo, ognuno personalmente come può fare? E secondo me ognuno personalmente ha veramente delle carte in mano per giocarsene. Ed è quella di prendersi sul cervello, ascoltarsi e radicarsi in questo suo desiderio e provare ad essere quello che vuole essere. In questo, voglio dire, in questo, cioè i risultati ci sono e si comincia, voglio dire, ad avere il coraggio di vivere da soli e si scopre che è l'amore che ci mette in relazione, non è il gruppo, è l'amore. Con l'amore noi possiamo essere in relazione con quelli che ci sono attorno e con quelli che ci sono lontani, con quelli che verranno e con quelli che sono stati. L'amore passa dappertutto, cioè veramente, perché ha anche il potere di andare al di là dell'amore. Grazie.